Si apre questa sera la sede Bitontina di Futuro e Libertà in Italia. Bitonto TV è venuta a vedere chi c'era. Responsabile nazionale per i giovani di Futuro e Libertà, Gianmario Mariniello. Allora Gianmario, come i giovani hanno accolto questa esperienza nuova di Fli? Innanzitutto con grande entusiasmo e con grande partecipazione. Sono tantissimi i giovani in tutta Italia che hanno aderito al nuovo progetto politico di Gianfranco Fini. Lo fanno veramente con spirito di servizio. Insomma siamo lontani, anni luce, dai giovani del PDL che sono pagati per andare a fare i ragazzi pom-pom della Moratti a Milano, come voi di Bitonto ben sapete. Quindi per noi la politica è partecipazione e militanza sono stati anche tantissimi giovani che in tutta Italia, anche in Puglia, sono stati eletti in Consiglio Comunale a queste ultime elezioni. Sembrano proprio i giovani il motore di Fli perché a Bitonto il responsabile è un giovane. All'inaugurazione viene invitato il responsabile di giovani, quindi giovani protagonisti di questa esperienza politica. Per forza, perché il nostro progetto politico nuovo richiede una classe dirigente nuova, degli interpreti nuovi. Sia Salvatore, sia Michele, sia tantissimi ragazzi che ci stanno qui a Bitonto, così come nel resto d'Italia, incarnano al meglio il nuovo progetto di Gianfranco Fini che, come dice anche il nome del nostro partito, Futuro e Libertà, è rivolto al futuro del nostro paese per migliorare questa Italia che così come non ci piace. Fli è un partito in pieno movimento, in piena crescita, ha fatto queste elezioni, ha ottenuto un risultato che riteniamo soddisfacente e, come vedete qui, continua a crescere. Bitonto già da subito ha avuto dei simpatizzanti o anche dei rappresentanti istituzionali. E' un'esperienza che può crescere quella Bitontina, dall'esperienza che ha lei finora, con i contatti con gli esperienti Bitontini? Sì, certamente. È un gruppo nato sin dall'inizio con Futuro e Libertà, è fatto di giovani, di ragazzi molto volenterosi, con grande entusiasmo. Ci aspettiamo qui buoni risultati. In prospettiva, nel lagone politico italiano, Fli ha già un'idea chiara, dopo Berlusconi che sembra avvicinarsi, anche se comunque non è ancora, come diceva un vecchio mister, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, tutti guidano la vittoria perché i ballottaggi sono ancora da farsi. Sì, i ballottaggi sono da fare, il risultato dei ballottaggi però mi sembra abbastanza chiaro e delineato, sarà una sconfitta coccente per Berlusconi che ha voluto politicizzare queste elezioni per la prima volta non comprendendo il vento che soffiava in Italia. Molti giovani che si avvicinano a Fli? I giovani si avvicinano a Fli perché vedono infini un leader giovane, un leader corretto, onesto, rinnovatore, un uomo coerente che mantiene le promesse. Gianmarco Surico, responsabile provinciale di Fli. Qual è la situazione di Fli in provincia di Bari? La situazione in provincia di Bari è ottima, abbiamo circoli ovunque, e anche nella competizione elettorale ultima abbiamo presentato liste in tutti i comuni e con un ottimo risultato, un discreto risultato. Riteniamo che questa iniziativa politica sia da perseguire e avrà futuro anche in relazione allo sfaldamento giornaliero del popolo delle libertà. Salvatore Tassari, anima di futura libertà a Bitonto. Allora, dopo un esponente di consiglio comunale, anche una sede fisica dove poter far incontrare i simpatizzanti di futura libertà? Sì, l'avevamo promesso e con sacrificio, non lo nascondo, ci siamo riusciti, ma è il sacrificio di un gruppo, di una costituzione di persone che davvero ha fatto gruppo e vuole riuscire ad esprimere determinate idee, determinati obiettivi. principalmente quello di riportare in piazza il confronto, la discussione, il dibattito. Il resto poi dopo, se qualcuno non è convinto di qualcosa, è convinto di altro, siamo qui a parlarne, noi siamo esclusivamente per la dialettica, il confronto, quello che manca a Bitonto, quello che manca in definitiva, lasciatemelo dire, ad un'Italia che è costretta a fare una campagna elettorale non basandosi sulle idee, ma sulle accuse, ma sul linciaggio nei confronti dell'avversario. Questo non ci sta, mi sta davvero stretto e quindi ecco una sede fisica che si propone di porre come luogo comune di un incontro per chi vuole confrontarsi. Ecco, in questi primi mesi come hanno risposto i Bitontini a Futura Libertà? Qual è la loro idea? Si è avuto modo di incontrare o confrontarsi? Molta curiosità, ma anche molto scetticismo, perché purtroppo nel momento in cui una sede politica si apre i Bitontini ritengono che quello possa essere un ricettacolo di voti. Non vogliamo racimulare voti, assolutamente, lontano da là. Vogliamo esclusivamente confrontarci, poi nel momento in cui questo confronto possa divenire a scelte corrette e opportune che ben ci votino, però al momento opportuno, nel momento in cui si va a votare, a Bitonto per votare manca un bel po', a meno che non vi siano determinate situazioni che anticipino i tempi a un anno più o meno. Ho capito, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, io vi auguro anche a voi buon lavoro, vi dico che seguiteci, perché purtroppo la stampa ha un grande compito, quello di portare in piazza una politica che è assopita. Voglio concludere con una polemica, magari può essere sterile. Pensate se Bitonto TV non ci fosse a Bitonto, davvero la città sarebbe sottoterra. Forse il dialogo, quel piccolo dialogo che prima era costante, naturale, fisiologico, non ci sarebbe. Per cui, grazie di esistere, siate sempre liberi e vi auspico che possiate mazzolarci nel momento in cui non faremo bene. In un momento in cui il clima politico, soprattutto in maggioranza, è molto acceso, sicuramente una nuova sede di partito contribuirà ad alimentare il dibattito nella nostra città. Dalla sede di Futura Libertà, Francesco Campione, per Bitonto TV.